Ben trovati all'appuntamento con le previsioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale in Europa. Un'area depressionaria si avvicina verso l'Inghilterra, portando con sei novolosità irregolari e piogge. Anche sulla Spagna centrale e nord orientale si propila una giornata caratterizzata da tempo incerto. Previsioni per il sud Italia per la giornata del 19 settembre 2014. Sul Gargano, su Vapenino Dauno, Murge, Salento e Labat, condizioni generali di bel tempo, così come su Calabria, Sicilia e Sardegna. Sulle altre regioni, in modo particolare sul nord Italia, nuvolosità irregolare con piogge temporali. Temperature comprese tra i 22 gradi di Milano ed i 31 di Palermo, 20 devoli di direzione variabili e mari, mosso l'Adriatico ed il Marligo. Grazie a tutti.